8 ecco whisky giuliette il k8 ecco whisky giuliette avanti vuoi si andati qua a digitare te? WSL Italia k8 ecco whisky giuliette ti confermo 59 in paparomo 072 grazie e buona domenica WSL scusami c'è un po' di sblattero qui da una stazione vicina allora Italia k8 whisky ecco giuliette corretto? CQ 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 40 chiama Italia Quebec 4 Foxtrot ecco portatile per referenza a Castelli Italiani paparomo 072 QRZ CZ2 Francia Oscar Sierra Francia Oscar Sierra avanti Italia Zulu 2 Francia Oscar Sierra CZ2 FOS Italia Zulu 2 Foxtrot Oscar Sierra ti confermo 59 in paparomo 072 WSL Ciao a tutti grazie ciao Italia Zulu 8 Italia Zulu 8 avanti Italia Zulu 8 Italia Zulu 8 oires Italia Zulu 8 Italia Zulu 8 Sierra, Sierra, Sierra Hotel, Sierra, Sierra Hotel, QSL confermi? Sierra, 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 Sierra Hotel, QSL confermi? Sì, grazie, 659 anche te, in Papa Romeo 072, grazie e buona domanica. Italia Whisky 3, chiamo Italia Whisky 3. Italia Whisky 3, avanti. Italia Whisky 3, Romeo Uniform Alpha, QSL.